ripetiamo video in diretta il paesaggio chiara ciao ale allora cominciamo col chiedervi se ci sono delle o massimiliano farnocchia di bongslab allora intanto volevo sapere se avete delle particolari domande su quanto ci siamo detti e su quello che abbiamo fatto finora ciao paolo allora vedo che vi state connettendo la lezione di oggi è una lezione a cui io tengo buongiorno morizio una lezione a cui tengo molto perché secondo me tutti prima o poi nella vita ci auguriamo di tornare a poter fare foto di paesaggio ciao linda e la fotografia di paesaggio questo è una forma di fotografia che ci pone in dialogo con il nostro io interiore al di là di andare dire va ho il ricordo di un bel posto se siete bravi se ci mettete impegno non mi vedi su facebook vedo che diverse persone sono collegate a facebook allora se vi siete iscritti al gruppo fotografando vi ricordo che tutte le slide benché vi siano state mandate sono scaricabili il sito link che abbiamo messo sotto una mia foto mentre tengo il corso quindi potete scaricare tutto abbiamo anche la mani di carnevale magari la interroghiamo allora oh borrini è arrivato eh 5 minuti di ritardo accademico allora bene mariana giudia benissimo stavamo dicendo che la fotografia di paesaggio non è una rappresentazione della realtà cioè Diego ma è un qualcosa di diverso è un porsi in relazione con la natura che con lo spazio che ci circonda e raccontarlo raccontarlo però all'inizionale a me per esempio può emozionare un paesaggio personalmente trovo un grande fascino nei paesaggi con la neve e può lasciarmi assolutamente privo di emozioni un paesaggio come può essere un paesaggio di mare personalmente non ho mai io ho fatto tutti i miei viaggi cercando di fotografare le cose che mi incuriosivano a livello visivo a livello architettonico ogni mio viaggio era sempre finalizzato a portarmi a casa una foto ho viaggiato nelle città perché pur essendo molto ignorante in materia amo molto l'architettura per quello che ne posso percepire amo quello che che arriva amo vedere per esempio il paesaggio che a me commuove tantissimo la visione di New York dal top of the rock l'avrò fotografata qualche decina di volte anche con un matrimonio però è una visione che tutte le volte che mi si pone davanti mi lascia senza fiato perché ne percepisco l'intelletto il genio dell'uomo che è riuscito a fare quello e quando ti giri invece riesci a vedere anche come l'uomo cosa assolutamente belle creando un parco come central park che è enorme ed è stato vietato assolutamente in ogni forma legale o meno di avere una la possibilità di specularci e di costruirci sopra quindi l'armonizzazione fra quella che è l'urbanizzazione e un terreno che invece è rimasto praticamente con un stato naturale come c'è anche bene quindi ogni mio viaggio è stato sempre improntato alla ricerca ciao Gianfra Giordano alla ricerca di qualcosa da fotografare per cui ho seguito le mie suggestioni in questi anni anzi ho cominciato con un fotografo di paesaggio sono arrivato alle Shetland sono arrivato in Norvegia sono arrivato negli Stati Uniti li ho girati un po' tutti non mi ha mai affascinato per esempio l'Asia questo è un mio limite forse culturale ma non sento questa suggestione sono molto affascinato di più dalla civiltà occidentale e quindi ho viaggiato sempre verso ovest andando a cercare quello che era quei paesaggi che forse mi hanno suggestionato di più quindi paesaggio non è dire come è fatto un posto ma è dire come tu senti quel posto quindi siete voi che diventate le persone che interpretano con le vostre caratteristiche con quelle vostre tecnè quindi con la vostra capacità di creare un determinato luogo allora partiamo a raccontarvi quali sono le foto di paesaggio e quali sono gli effetti che piacciono di più nella foto di paesaggio oggi devo dire che il 90 per cento dei foto amatori io mi reputo un professionista che ha l'hobby della fotografia come diceva qualcuno e l'hobby di scattare delle fotografie per puro diretto mio lo ho ancora il paesaggio è una cosa che mi affascina tantissimo purtroppo devo dire che oggi quello che si vede nel paesaggio nella fotografia di paesaggio che che viene apprezzata premiata se andate su iuza che è una miniera di informazioni sono paesaggi estremamente artefatti tutti che viaggiano in hdr che cos'è l'hdr è un processo fotografico che non spiega in questo corso perché voglio tenerlo elementare sto valutando e sono molto vicino a farlo un successivo corso di fotografia più approfondito dove se mi date degli argomenti se mi scrivete in privato dopo metterò un post sull'argomento vi chiederò cortesemente di la racconta di dirmi quali argomenti volete che io tratti e cercheremo di fare delle lezioni ad hoc poi avrei piacere ho anche un progetto di portare degli ospiti di parlare e in fotografia farò delle impiste bene parlavamo di di questo mondo in hdr allora l'hdr è quel tipo di immagine che ora va molto dove il termine hdr si il dynamic range cioè un tipo di immagine dove le ombre mai nere e dove quindi si vede sempre il dettaglio nell'ombra e la luce non è mai bruciata è quello che è l'immagine che vedete su netflix netflix è girato direttamente in hdr proprio con delle macchine che supportano questo bene questo tipo di paesaggio è molto bello di impatto però la sua visione non è quella umana è una visione più plastica plasticosa questa ricerca assoluta di far vedere l'ombra luce personalmente mi ha un po stufato per cui nella mia visione nel mio modo di vedere sto tornando a una fotografia più semplice sono già stato lì e cerco di tornare indietro vedo che qualcuno mi da ragione dice che l'hdr è foto un po finte allora quindi molto spesso fare fotografie di paesaggio non è forse in relazione con questo luogo ma io vedo bruttissimi esempi di fotografie ripetute cioè applicano un metodo e questo metodo tutte le volte che lo vai a porre perché prendi la macchina fai quattro foto le sommi con un computer ottiene determinate immagini dai alcune sfumature ottengono la stessa foto in quel caso non stanno facendo foto di paesaggio stanno facendo la solita foto poi che davanti ci sia l'impare state building a new york o le petrona stauer sempre la stessa foto è però ragazzi andare in giro per il mondo e fotografare non significa quello non significa che voi dovete fare la stessa foto con la stessa tecnica con lo stesso movimento con le stesse cinque foto quello che dovete trasmettere è l'emozione che a voi soggettivamente da quella scena e qui si apre grande problema che se la vostra senza non è allenata a percepire quella determinata visione quella determinata sensibilità non arriva le cose farete delle foto uguali a tutti gli altri questo è il grandissimo rischio sia di chi fa macro fotografia sia di chi fa foto di paesaggio che alla fine fatti tutti la stessa foto applicate un metodo applicate una tecnica e fate una foto prefabbricata il vero sforzo nella fotografia di paesaggio è quella di dire quel paesaggio che emozione vi dava e questo parte da aprire il vostro cuore e raccontare le vostre emozioni molto semplicemente non tutti abbiamo la stessa sensibilità non tutti abbiamo la stessa profondità non siamo bravi a rendere la scena nello stesso modo purtroppo non è razzismo ma è così rick leo scrive bisognerebbe fare foto come se si avesse ancora la pellicola sei visto le lezioni precedenti io ho detto proprio questo io personalmente scatto ancora parte dei miei lavori a pellicola escono delle belle foto si suggestive ma non è il mezzo che fa la fotografia ella e l'emozione e la vostra capacità di entrare in dialogo con il paesaggio con quell'opera con quel quadro con quella cosa cioè per esempio io ho visto delle foto abbastanza interessanti di paesaggio di un fotografo che scuriva tutte le ombre portava tutte le ombre nero e lasciava a dettaglio solo nelle luci che scena delle foto estremamente suggestive ma quella era la sua visione perché nella sua visione introspettiva il dark darkness estremamente dark e la luce invece non è così forte da bruciare quello che vede e questo è portare per esempio se stessi in relazione con viviamo intorno grazie christian ad esempio fotografare il paesaggio minimal è una scelta estremamente interessante perché vuol dire che hai la capacità la sensibilità di togliere dal minimal tutto ciò che è di troppo vai a pulire di quello che è il rasoio di oca tra l'altro io do sempre un consiglio dono avanzato in questo caso lo darò anche a voi più siete bravi a togliere roba nelle vostre fotografie più il nostro post fotografie saranno potenti voi quando siete davanti con la macchina fotografica in mano dovete aprirvi tirare fuori ogni pensiero ogni emozione e usare non le tempere ma la natura quello che abbiamo intorno per creare un riflesso della vostra emozione se andate in giro e se funziona la macchina fotografica ora io non mi permetto di fare i nomi però voglio dirvi che c'è un gruppo di fotografici che sono abbastanza famosi per andare in giro e fare lo stesso metodo in tutte le fotografie però non è fotografia quello è controllare che il metodo funzioni che la macchina fotografica funzioni ok foto può essere bella anche se mossa anche se un filo sfocata però se quello sfocato quel mosso eccetera attingono vanno a pescare qualcosa che io ho qua e se no no bien bene passiamo alla parte tecnica sapete che questo è un corso tecnico 4 mi facevano notare in questo corso ho parlato pochissimo preferito magari farò una diretta specifica su di lui per farmi perdonare e sto parlando di robert kappa che è un fotografo di guerra che ha scritto le pagine più belle del fotogiornalismo e non ho citato abbastanza comunque robert kappa disse una cosa che nella fotografia di paesaggio è stato pericolosa per lui è stata molto pericolosa avete ci ha lasciato le penne e disse fondamentalmente che non se la tua foto non è abbastanza buona tu non è abbastanza vicino non lo fate in montagna perché se sei troppo vicino al burrone andate di sotto cosa si intende per paesaggi minimal un paesaggio mio è un paesaggio in cui ci sono pochissimi probabilmente un solo elemento e il resto si perde qualcuno ha postato e poi c'è minima sul fotografando ci andate sul fotografa un gruppo mettete le foto tempo pibili ragazzi pochino più di impegno un po più di foto arrivo però cazzo ci sono da vedere tutte quelle foto che hanno messo su fotografando e trovo 3 4 allora quelli bravi che si stanno impegnando sono l'alessia che sta andando bene borrini ogni tanto mette qualcosa anche delle critiche ma lui ha una visione che va un pochino affinata ma già a buon punto nella tecnica c'è poi ho visto delle cose che è davvero belline tante foto di bimbi e citatevi siete a casa ma annoiate scattate io oggi ho finito un rullino 36 foto a pellicola per provare un 200 f4 del 75 però vale occhio tagliare le zappi allora quando si fa fotografia di paesaggio si cambiano un pochino le regole del gioco ovvero ovvero al mio new york non c'era la luce giusta ora qui mi fai una domanda che non mi ricordo qual è la foto fotografando è un gruppo facebook si dove trovate tutte le lezioni che potete scaricare e dove io sono sempre disponibile se mi tagliate a dare un consiglio a dirvi se una foto è bella con pure no o come poteva essere fatto agli uira si la si smora sì ma anche nel mio meccanico perché c'è che meno roba c'è e meno se ne rompe allora gli iso più bassi possibili perché gli iso più bassi possibili perché dobbiamo cercare di portare a bordo della nostra fotografia meno rumore possibile perché il rumore si ferma si forma quando gli iso sono alti ma si forma anche quando i tempi di posa sono lunghi e voi come si suol dire in gioco tecnico cuocete il vostro sensore cioè lo fate scaldare si crea ugualmente il rumore consiglio lezione in semi spot perché potreste avere all'interno della vostra fotografia dei punti molto luminosi e dei punti estremamente bui i diaframmi che normalmente si usano per avere una buona profondità di campo sto diaframmi f7 f16 perché vi dico questo perché i diaframmi nel paesaggio sono legati a avere tutto a fuoco quando voi a me andate a mettere specialmente su un obiettivo piuttosto corto come può essere un 18 un 24 eccetera un diaframma come 7 1 probabilmente avrete un 8 avrete a fuoco da pochi metri di distanza a voi infinito questo metodo vi permette di non perdere tantissimo tempo con la messa a fuoco dopo come abbiamo già visto sulle macchine moderne non ci danno più il riferimento della messa a fuoco ok hanno tolto la ghiera che ci dice quanto era fuoco con quel determinato diaframma per qualche criminale ragione mentre se voi prendete un obiettivo come quelli di una volta o clander fatti oggi a mano come i costosissimi leica che si compra borrini troverete ciao ciao marco troverete delle bellissime ghiere di riferimento che vi dicono ragazzo con f4 metti a fuoco da due metri a otto metri se mette f8 metti a fuoco da un metro fino a al finito e quindi a quel punto voi impostate quel diaframma girate non dovete più preoccuparvi e sarà tutto perfettamente a fuoco di lì in poi questa è una è un grande vantaggio perché quando noi smettiamo di preoccuparci della messa a fuoco del tempo dell'esposizione eccetera possiamo concentrarci sul discorso emotivo quindi tolta la tecnica come avete letto la lettera dei george rogers che credo di aver pubblicato sul fotografando al figlio rogers disse una cosa molto semplice imprestato da un amico allora roger disse una cosa al figlio che gli chiese come faceva diventare un fotografo e disse una cosa molto semplice pacca tira testa a studiare la tecnica impara la tutta quando la saprai davvero diventerà automatica come il movimento che fai della mascella quando ti avvicini una mela se voi pensate appena portarla alla bocca fate due cose aprite la mascella e avvicinate la mano se ci pensate una cosa abbastanza complessa da fare nel caso invece di prendere cioè quando lo fate senza pensarci lo fate in automatico la stessa cosa deve essere per voi la tecnica sarete buoni fotografi quando alla tecnica non pensate più vi concentrate su che sapore ha la mela o meglio su che sapore ha la vostra fotografia quindi se volete fare delle fotografie buone la tecnica dovete è data molto semplicemente quindi quando per voi la tecnica è automatica e intuitiva è una cosa che viene da sé senza problemi lì potremmo cominciare a ragionare ti quello che dovete mettere nella fotografia che è una cosa diversa quindi più cose voi andate a togliere più cose meno cose cui vi dobbiate occupare quindi mettere a fuoco esporre eccetera più la fotografia sarà libera di essere creativa veramente creativa allora è ovvio che se andiamo a mettere iso bassi e diaframmi molto si chiamano chiusi o aperti sia borlini sono tutti boscati allora diaframmi come 8 sono diaframmi chiusi o aperti ora dicono che facebook è lento aspettano che io dico per scrivere tutti brava le chiusi ma l'essere in tutto allora quando voi mettete un diaframma piuttosto chiuso gli iso bassi la conseguenza sarà che il tempo si a a a a a a bronzatissima cosa fa il tempo si al 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 a si allunga con essa vedo maniera brava si allunga quindi se il tempo si allunga è ovvio che potrei avere il grande rischio di non poter più lavorare a mano libera quindi è importante dotarsi di un ottimo calletto mettendo la macchina sul cavalletto me ne posso fregare del tempo lungo allora andiamo a vedere l'amico cavalletto questo è un cavalletto allora quando ho comprato questo cavalletto qua ancora credo non fossero in vendita le macchine fotografiche full frame digitale forse solo la piaccia è un gizzo in carbonio che pesa veramente nulla ha supportato tutto e sopportato sia me che tutte le mie macchine fotografiche degli ultimi 2000 o dal 2008 oggi sono 12 anni quindi dal 2008 cambiato bo 15 16 macchine fotografiche ho sempre avuto lo stesso cavalletto questo perché perché il cavalletto è una cosa che quando lo comprate buono non mi voglio dire che dura tutta la vita perché mai si tronca ve lo rubano eccetera però lui è stato bravo a non farsi rubare a san francisco però è eterno cioè non è che cambia si evolve tecnicamente ci mettono qualcosa di elettronico che si trasforma è meccanico fa un lavoro meccanico cioè regge un peso poi dovete sapere che quando si compra il cavalletto bisogna sapere quanto pesa attrezzatura che non ci andiamo a mettere sopra perché un cavalletto inteso così senza testa ok come se fosse la testa regge un peso mediamente intorno ai 17 kg la testa che è questa cambia da cavalletto a cavalletto perché lo vedremo può avere delle esigenze di movimenti più piccoli quelle per la macro fotografia o per il paesaggio ma soprattutto la testa regge un determinato peso quindi inutile mi porta una testa mastodontica per andare con una mirrorless porterò una testa leggera quando vado con la mirrorless e se poi ho una medio formato prenderò una testa più grossa più più resistente che regge un peso maggiore per quando vado via con una medio formato per esempio ora rispondo alle domande la il cavalletto quindi a questa funzione di essere eterno vale la pena spendere qualcosina in più sui cavalletti perché perché il cavalletto se ve lo comprate pesante non lo portate in giro cavalletto molto pesante è un peso e poi cominciate a lasciarlo a casa e poi le foto non vengono bene e poi il cavalletto se decidete di fare foto di paesaggio è indispensabile se lo avete comprato cioè se lo dovete comprare compratelo buono una cosa cavalletti si capisce subito se un cavalletto economico o come si suol dire del cinese se ha un collegamento tra le gambe e la colonna non prende mai un cavalletto che ha collegamento gamba colonne ovviamente non sono sponsorizzato però dirvi una cosa che secondo me personalmente per averli trovati in diverse marche ed essere sempre poi tornato a portarmi indietro il mio io sono innamorato di gizzo quanto costa un gizzo parecchio però è l'unico pezzo allora io questo qui lo dovrei aver pagato qualcosa contro come tra i cinquecento e seicento dollari perché l'ho comprato bnc a new york però roberta era scontato il cavalletto non fosse top allora da bnc a new york e lo pagare circa 500 dollari quindi una cifra importante si compri già un discreto obiettivo però è anche vero che è durato a oggi 12 anni quindi mi ha inciso su e con me lavora tanto lavora io tutti i matrimoni ce l'ho ci metto il cavallo ci metto un flash oppure ci faccio delle altre cose ogni tanto lo uso anche per fare delle foto al matrimonio con tempi lunghi lo uso lo uso tutti i giorni per meno strumento di lavoro e per questo il cavalletto è una cosa che secondo me ha un grosso valore e se ci spendete meglio meglio se ci spendete scusate torno al scrivevano delle cose di studio con portoni allarmistici ma non ho ancora morto nessuno quindi cavalletto compratelo buono allora altre marche che possono essere interessanti da comprare so che ci sono i calmon calma scritto pullman poi ci sono i ben oro mi pare l'importante che siamo un buon cavalletto in carbonio qual è il problema il cavalletto in carbonio leggero e resistente ma ma vediamo se c'è qualcuno appassionato di fisica il letto in carbonio a un grande problema relativo alla vostra sicurezza anche cavalletto in alluminio lo ha ci vorrebbe un cavalletto di plastica eeeh il cavalletto in carbonio a il problema che attira i fulmini quindi se andate a fare delle foto particolarmente bravo philippo delle foto particolarmente impegnative o difficili tipo quando piove e si parte si va a fare i fulmi state attenti scattate un attimo da lontano perché realisticamente come la canna da pesca rischia di attirare un film un fulmine ci rimanete secchi quindi questo è il grande e grande problema del cavalletto in in carbonio bene step numero 2 un altro accessorio estremamente importante per la fotografia di paesaggio è lo scatto remoto ora in questa slide abbiamo messo uno scatto remoto ovvero a cavo questo scatto mi sembra fosse della make si utilizzava qualche anno fa perché si infilava nel corpo macchina uno spinotto e questo spinotto voi lo portava il contatto dal pulsante addirittura c'era la possibilità se vedete quell'unghietta rossa di bloccare lo lo spinotto bloccare lo scatto e fare quella che la posa b cioè un tempo di posa lunghissimo quella quell'unghietta rossa per il tempo di posa lunghissima era estremamente divertente io mi ci sono veramente divertito tanto a fare tempi lunghi quindi è un oggetto antiquariato anzi di modernariato perché perché oggi lo scatto remoto che dovete utilizzare e il cellulare quasi tutte le macchine moderne infatti hanno un collegamento wifi o come dice qualcuno wifi e questo collegamento wifi fa per me di andare a interagire in maniera più performante con la macchina sulle mirrorless ma penso anche su tante reflex per esempio potere quello che stanno quindi magari se avete una macchina e la volete mettere all'acqua coperta magari con un telo impermeabile perché anche se è tropicalizzata non è subacca la potete mettere in un punto dove non potete essere dal cellulare vedete sia l'inquadratura sia gli dita il momento in cui scattare quindi oggi parlare di scatto remoto inteso come filo e pulsante è romantico ma è vecchio tutte le macchine moderne si possono utilizzare con questo chi per caso avesse la passione di scattare a pellicola si ricorderà che esistono anche degli scatti remoti meccanici cioè dei fili che sono delle guaine fondamentalmente dove passa uno spinotto voi premete bloccate lo spinotto rimane allungata il pezzettino che si allunga dello spinotto clicca sul pulsante e fa lo scatto e anche lì bloccando con una vittina potete fare la posa b una ragazza mi chiedeva Lidia Romanelli perché la resa migliore F8 e gli altri valori da 7 a 16 quando li dobbiamo usare? allora i valori che ho messo sul diaframma sono indicativi cioè normalmente un obiettivo da paesaggio, un obiettivo grandangolare buono da il meglio di sé tra F8 e F10 come abbiamo visto nelle lezioni precedenti se vado su diaframmi molto aperti, 2,8 eccetera arriverà sempre meno nitido se invece utilizzo un diaframma estremamente chiuso posso incontrare il problema della diffrazione cromatica che si sintetizza in una perdita comunque di qualità dell'immagine quindi non utilizziamolo mai agli estremi F8 e F10 sono valori intermedi dove generalmente l'obiettivo esprime meglio di sé poi se nel tuo paesaggio è bello fare magari un punto a fuoco e il resto sfocato sei libera sempre di lavorare sul diaframma ti ricordo che i diaframmi hanno una resa diversa da obiettivo a obiettivo cioè scoprirai leggendo i test MTF per esempio io sono abbastanza innamorato di un sito che fa delle cose buone che è Photoson, anche se non è aggiornatissimo dove scoprirai che il tuo obiettivo ha una resa più informante a determinati diaframmi e meno perutti ad altri è veramente una sorpresa scoprirai che magari a F8 è favoloso e a F10 è pessimo magari a F16 ritorna a essere meraviglioso stabilizzato lo mettiamo dopo no, non si ammacca, è abbastanza resistente al carbone allora qualcuno mi dice se il cavalletto è molto leggero ondeggia con il vento vero, ma su tutti i cavalletti estremamente leggeri hanno messo un simpatico gancio che non serve per agganciarvelo all'orecchio portarlo a modo orecchino serve perché quando lui lavora voi ci agganciate la vostra borsa e si stabilizza cioè la sua massa diventa molto molto più forte quanto funziona questo? funziona molto bene a me è capitato di fotografare un paesaggio di New York poi forse se me lo ricordo ve lo rimetto che sto fotografando con una giornata di vento incredibile con un tempo di otturazione di 30 secondi era bellissimo perché si vedeva tutte le nuvole che hanno fatto una strisciata dietro la city sul tramonto una cosa meravigliosa il cavalletto si staccava letteralmente da terra quindi il vento era molto forte cosa ho fatto? o faceva vela un obiettivo perché era molto grande ho preferito attaccarci la macchina cioè la borsa con tutti gli altri obiettivi le cose eccetera il cavalletto è diventato stabilissimo non si è più mosso il Manfrotto 55 con la testa a tre vie e se vai a fotografare sulle Alpi vedrai che lo lascia a casa perché saranno 6-7 pili di roba tra un po' sì il Kuhlman l'abbiamo detto è molto buono è un Benro anche lui allora il Benro dipende che materiale è se è carbonio perché mi sembra che fanno carbonio e fanno anche alluminio allora il cavalletto in alluminio bellissimo in studio è comodissimo ce l'ho quando devo fare una roba di still life da portarselo in giro andate anzi in palestra vediamo le altre domande una classica del carbone è che invecchiando subisce un degrado delle caratteristiche meccaniche sì ma lui qui fa poco perché non è stato solo ok Gianfranco Zoro Giordano Zona Gianfranco Zoro è molto più bravo di lui quindi suggerisci per avere immagini finiti e per le lunghe esposizioni non di chiudere il diaframma ma di applicare filtri esatto poi Massimiliano Santini come si chiama il sito per verificare l'obiettivo? allora si chiama foto scritto col ph zone e dovrebbe essere originariamente in tedesco tradotto in inglese si sono aggiornati non aggiornatissimi perché alcuni obiettivi vengono stressati molto specialmente i grandangoli con questa incredibile corse megapixel cioè quando si iniziarono a fare le macchine digitali qualche anno fa le macchine avevano una risoluzione di 6-8 megapixel e sembra strano ma in realtà erano più che sufficienti all'epoca perché io ricordo una pubblicità di una Nikon D2H mi pare si chiamasse che era una professionale una professionale pensata per il fotografo sportivo che quell'anno mi pare andavano alle olimpiadi quella macchina aveva 6 megapixel di risoluzione perché erano più che sufficienti per fare una copertina quindi un 20x30 di una rivista quindi di più non gli servivano poi è iniziata questa forza il megapixel siamo arrivati paradossalmente ad avere oggi i tipi di macchine macchine a 40-50 megapixel che sono macchine per paesaggisti e la macchina del professionista un pochino più tuttofare che viaggia sui 20-24 megapixel disfruttiamo tutti i megapixel allora li sfruttiamo e non li sfruttiamo anzi a volte sono anche pochi nel senso che una macchina 24 megapixel per andare a stampare su una stampa tradizionale può essere questa è più che sufficiente mi sembra di aver letto no è un altro photozone in lavorazione dopo ve lo cerco vi metto il link su fotografando comunque cercate il photozone test mtf massa torino firenze e troverete tutti questi siti che fanno le prove del vt il 12 megapixel è vero felice è vero in realtà si incontrano problemi quando si cambia le logiche di stampa quando non si stampa più un 30x40 ma si sale o si aumenta la qualità di stampa come per esempio io che scatto un fine art comincio ad avere qualche problemino di avere bisogno di più cavalleria cioè se un cliente mi chiede un 70-100 fine art comincio a aver bisogno di 47 megapixel però è un processo che parte per quello non tutte le foto le posso stampare in in fine art cioè non tutto quello che faccio viene stampato in fine art quindi il grande spartiacque è la logica di stampa se non ricordo male nella stampa tradizionale qualunque esigenza è coperta con 18 megapixel salvo che voi non abbiate camminare la fotografia e dobbiate ritagliarla perché quando andate a ritagliare una foto perdete un po' di megapixel per la strada quindi perché 24 megapixel perché se devo fare una stampa normale di un fotolibro o di una qualunque cosa ne ho d'avanzo cioè ci riesco a fare tranquillamente tutto con 36 megapixel faccio addirittura due schermate tranquillo e beato dopo i 36 megapixel sono esigenze atte a stampe di grandi dimensioni con logiche di stampa particolarmente esigenze esigenti come il fine art oppure sono stampe che servono per fare dei tagli con la 100 megapixel tu fai una fotografia di una collana e hai sia il particolare del gioiellino sulla collana sia il particolare dell'anello della collana stessa bene adesso conosciamo un falso amicico tutti nella vita avrete conosciuto dei falsi amici oltre i verbi inglesi il falso amico di cui parliamo stasera è lo stabilizzatore allora qua si apre una bellissima parentesi l'importante luce è che i megapixel se la luce cioè i megapixel ti riporti sempre abbiamo appena scoperto che qualcuno non ha capito un video che abbiamo messo sarebbe bellissimo aprire quel post e ti direste per delle ore ma non lo farò sono buone salverò al povero baci dal pubblico ludico allora lo stabilizzatore è un sistema che è stato inventato piuttosto recentemente che stabilizza come dice la parola l'immagine ovvero c'è solo un gel che sta fra due lenti che si muovono e compensano le vibrazioni che date il gimbal è un'altra cosa il gimbal è un macchinario che compensa le nostre vibrazioni muovendo il corpo macchina lo stabilizzatore può essere di due nature o nell'obiettivo oppure molto più vicino al gimbal è quello che ha per esempio sony che ha come olympus che stabilizzano il sensore cioè hanno una specie di gimbalino che ti compensa il sensore quali sono le differenze di questi due sistemi allora lo stabilizzatore sull'ottica funziona su quell'ottica lì perché è un pezzo di vetro interno all'obiettivo quindi se cambiate obiettivo potrà può darsi che non lo abbiate quindi magari comprate anche un obiettivo professionale come può essere che ne so il 16354 di Canon magari non è stabilizzato e sulla vostra macchina quell'obiettivo lì non è stabilizzato quindi non avete questo aiuto che riduce le vibrazioni che voi passate alla mano se invece avete uno stabilizzatore sul sensore come fanno appunto Sony Olympus Olympus come dicono gli inglesi avete uno stabilizzatore e qualunque ottica andiate a montare verrà stabilizzata se voi prendete una vintage lens del 1950 con l'adattatore ce la mettete sopra e siccome stabilizza il sensore avrete un'immagine stabilizzata anche in quel caso la stabilizzazione è estremamente importante quando giro il video perché veramente dà un'idea molto più professionale e la bontà di uno stabilizzatore d'immagine è veramente impressionante io ho visto questa evoluzione da che ne so Sony 7.1 a Sony e qui parla un amico Paolo a Sony a7.3 o a S2 l'evoluzione dello stabilizzatore è stato sconvolgente da non averlo averne uno che lavoricchiava a uno stabilizzatore che è granitico cioè che ti sembra veramente di avere la macchina sul cavalletto anche in tempi di posa estremamente lunghi personalmente io su Sony sono contentissimo perché mi sono successi due episodi in cui il stabilizzatore mi appette anche Pentax ci va sul corpo macchina bene tra l'altro lo stabilizzatore è la grande differenza di prezzo che c'è credo parlando con Paolo fra la 6.3 e la 6.5 allora nella parte foto si compensa nella parte video cambia veramente le regole del gioco a me è capitato a Milano di avere da fare foto che sognavo di fare da una vita avevo una bellissima coppia di sposinesi tra l'altro e questi questi ragazzi avevano trovato una situazione di luce perfetta e c'era il tram a ponosfera allora per me Milano è il tram cioè io se penso a Milano ho in testa una foto meravigliosa che è il Gam de Legne e mi correggeranno gli amici milanesi per la per la pronuncia anzi mi piacerebbe sapere se gli amici di Milano che sono connessi se lo ripetono il Gam de Legne era un trenino l'antesignano del tram credo che passava per Milano ed era stato immortalato in una bellissima fotografia di un fotogiornalista di cui in questo momento mi sfugge il nome ma poi ve lo cerco e ve lo metto e quest'uomo che il fotografo era il fotografo di epoca che è stato un po' il life italiano ora qui si apre un capitolo molto interessante a livello storiografico allora la fotografia ha l'importanza che ha per un motivo storico cioè quando una volta si diceva fare la fotografia della situazione si dice anche oggi significava dare un'immagine reale perché la fotografia era reale perché quando andavi in una macchina a pellicola e tu dovevi per forza raccontare la verità perché che usciva dalla pellicola era una prova testimoniale nel mondo digitale la veridicità dell'immagine si è completamente capolata ma facciamo un passo in più e parliamo dell'amico Robert Kappa allora la fotografia immaginate di essere nel 1943 in piena guerra i giornali in Italia avevano le immagini di quell'autore fantastico che era Beltrame che disegnava le copertine della Domenica del Corriere e faceva delle cose io ho delle copertine della Domenica del Corriere le adoro perché i disegni di Beltrame mi sono chiesto tante volte come facesse lui a immaginare quei luoghi quei posti a scriverle in quella maniera perché sono qualcosa che tolgono il fiato in America perché sono sempre un po' più avanti avevano life cioè avevano una rivista che in copertina metteva una foto quindi ti dicevano non come era l'immaginazione dell'autore che faceva il disegno ma ti mettevano la fotografia della realtà e la fotografia della realtà sì Beltrame come Salgari Salgari si è inventato i pirati non era mai uscito da Torino cioè sono uomini dotati di una creatività incredibile poi spieghiamo chi è Salgari perché no qua a Torini avrai il compito di spiegare Salgari agli amici sul fotografando che vogliono approfondire loro erano veramente dei visionari cioè lì veramente creavano quella che era la loro visione della realtà gli americani mandavano in giro i fotografi immaginatevi voi il D-Day lo sbarco in Normandia gli americani devono dire al mondo che effettivamente hanno preso quella che era la fortezza Europa e potevano dirtelo con un disegno di Beltramo te lo potevano dire con un'illustrazione con Topolino e Pippo che sbarcavano no loro ebbero la necessità di dire al mondo di dare una prova anche ai finanziatori perché la guerra in America è stata pagata dai privati che effettivamente stavano vincendo che effettivamente avevano assaltato la fortezza Europa e lo dico sempre con un filo di emozione si è veramente scritta la storia dell'importanza della fotografia perché forse almeno a mio avviso nella maniera più forte il mondo ha preso consapevolezza che la fotografia ha una forza devastante in quanto c'era un uomo su quella spiaggia un uomo mitico che si è imbarcato con la prima ondata quindi con quelli che hanno lo sbarco è andato su quella spiaggia e mentre quegli soldati hanno il loro compagno a morire lui aveva al collo due contacts e scattava scattava e quelle foto sono l'unica testimonianza per il mondo che effettivamente quella cosa quel fatto è successo ha scattato tanto Robert quel giorno sulla spiaggia e quando voi avete visto il film Salvate il soldato Ryan quelle immagini sono mutate dalle fotografie che ha scattato Robert Kappa con la prima ondata fra le acque di Omabich Omabich è andato tutto storto gli americani hanno veramente rischiato di renderle perché hanno sbaglio impossibile i loro cari armati che dovevano aprire la strada ai fanti sono stati affondati e quindi non sono arrivati sulla spiaggia i tedeschi sono asserragliati nei loro bunker e penché siano la riserva perché hanno tutte persone con più di 40 anni che stavano difendendo le postazioni sono dotati di una mitragliatrice terribile che è la MG poi c'è un fuoco delle batterie costiere a cui i cannoni delle navi americane non hanno fatto nulla e le MG sparano sparano velocissime sono devastanti rispetto alle mitragliatrici americane e fanno una strage sulla spiaggia ecco voi immaginatevi di essere lì con la macchina fotografica fra le mani e di scattare immaginate che state fotografando corpi di persone dilaniate dalle bombe dilaniate dalle esplosioni di sentire i proiettili che si bilano veloci verso di voi ecco Robert ha scattato tutto questo e quando è arrivato al sicuro ha detto che si continuava a dire ora mi sciacco le mani e torno in battaglia ma mentre se lo diceva la paura è stata più forte e lui si è salito su una barca che tornava indietro e poteva farlo perché non era un militare era un protogiornalista è tornato indietro e è tornato in Inghilterra con la sacca con i rullini che raccontavano che gli americani che dopo un combattimento terribile avevano preso Mavic bene in quel momento la cosa più importante che avrebbe veramente cambiato la percezione della guerra era un sacchetto di rullini immaginate quindi che arriva a Londra sul libro di Robert Capa c'è una descrizione bellissima e dettagliatissima di come vengono questi aspettarlo a Londra c'è un signore se non aspetta lui aspetta i rullini Robert rimane in fronte e in questo questo signore si chiama Morris ed è uno dei personaggi più mitici del fotogiornalismo mondiale e lui in quel momento quando la sacca di rullini sente la responsabilità di avere la prova provata che lì c'è la storia ma c'è anche il messaggio di speranza per un mondo che sta combattendo una guerra mi porta in sala di sviluppo in sala di sviluppo c'è un giovane assistente a cui tremano le mani a toccare quei rullini Morris ha fretta perché vuole che quelle foto arrivino a Life perché Life sta per chiudere ma lui vuole che Life esca con la copertina quindi fa fretta questo assistente fa una cosa che non è bella gli mette pressione questo ragazzo per cercare di accelerare il processo gli sviluppa e gli mette nell'essiccatore che asciuga i rullini Morris entra riguardano le essiccatore che ci perano immagini fantastiche purtroppo però l'essiccatore è messo troppo caldo e brucia la maggior parte dei rullini si salvano le favolose 11 foto di Robert K sullo sbarco in Nermandia 11 foto che hanno cambiato il volto della guerra purtroppo sembra paradossale dirlo Robert K che ha messo l'animo in queste foto soffrirà moltissimo della pubblicazione di queste immagini e uscirà da quella frase che lo mortifica un libro bellissimo perché Robert prenderà Life vedrà una sua fotografia in copertina e troverà una nota di Morris ci spiace purtroppo le foto che abbiamo pubblicato sono leggermente fuori fuoco perché le foto di Robert K che si sono salvate erano quelle leggermente mosse quelle buone che non potevano dirle ma le avevano bruciate queste foto oggi sono conservate come loro sono considerate le 11 foto più famose del mondo una si sta rovinando e purtroppo ne abbiamo una testimonianza sono state oggetto di uno studio incredibile addirittura siamo arrivati a scoprire i nomi che sono nelle foto addirittura questi personaggi hanno preso dei nomi dei soprannomi uno si chiama Surfer perché sembra che stia surfando sull'onda e è riuscito K a trasmetterci la memoria di questa di questa guerra di questa battaglia rischiando di poi la storia continua è la storia di di personaggi mitici io non ho mai capito perché non abbiano girato un film su questo perché da una parte c'era Robert Capa ma poi Robert Capa va in giro per il nord della Francia con un certo Hemingway che si è fatto riarruolare apposta perché voleva combattere i nazisti e sulla jeep dietro c'è Morris che è il padre del fotogiornalismo se volete approfondire la storia che è bellissima che vi racconta di quando hanno sparato nel sedere a Hemingway e Robert Capa lo prendeva in giro ci sono due libri uno è Get the Picture di Morris in italiano anche se il titolo rimane in inglese in copertina abbiamo un altro mostrossacro del fotogiornalismo che lo vedete sta scattando in piedi mentre tutti sono sdaiati a terra e sparano con i fucili si chiama Natchway e cercherò di parlarvi anche di Natchway e dall'altra parte c'è un altro libro che è appunto leggermente fuori fuoco edizioni Contrasto che è il racconto della storia dello sbarco in Normandia della guerra in Normandia in Francia raccontato da Robert Capa tra l'altro chi volesse approfondire ulteriormente Robert Capa ha fatto un bellissimo lavoro sulla campagna in Italia perché lui benché non avesse più ruolo ma si è buttato dentro al volo è andato a combattere anche nello sbarco in Sicilia e poi si è fatto tutta la campagna d'Italia quando i tedeschi cercavano di respingere gli americani e gli inglesi che stavano salendo bene questa è l'importanza di Robert Capa nella storia della fotografia non l'avevo si è incazzato molto Robert Capa vedo che qualcuno è andato a vederle poi cercheremo un link per farvele vedere le metteremo su qualcosa la mia connessione vedo che sta subito in sostanza ok grazie ma se vogliamo parlare di autori della fotografia possiamo farlo guardate dopo vi racconto un'ecce allora il paesaggio diurno torniamo a un tema più terreno ah se a qualcuno interessasse Robert Capa ha continuato a fare tutta la guerra è un personaggio mitico ha avuto donne famose avventure veramente qualcosa di estremamente grande morto anche molto giovane purtroppo è morto facendo foto nella guerra di Indocina seguiva le truppe francesi si è avvicinato un pochino troppo a una mina purtroppo è saltato per aria tra l'altro Morris aveva cercato di bloccarlo non voleva che lui andasse in Indocina anche perché lui fotografava sempre da una parte cioè il principio con cui Robert Capa faceva il fotogiornalista che non è quello del giornalista era quello di raccontare il punto di vista delle due delle due storie quindi se c'è una guerra lui si metteva da una parte tra l'altro ora vi faccio un po' piangere Robert come ricordo una bellissima canzone degli Alt J che fa figlissimo dirlo perché sembro giovane ha avuto forse un enorme amore un grandissimo amore e amore e fotografia per lui si sono intrecciati allora pensate che Robert Capa non è il suo vero nome il suo vero nome è qualcosa di impronunciabile lungherese perché lui era un fotografo di origine ungherese che si scala dall'Ungheria perché purtroppo l'Ungheria subiva un'influenza del regime nazista sto riuscendo a fare cose e e quindi lui si rifugia a Parigi a Parigi conosce un altro personaggio mitico che è Gerda Tarro Gerda Tarro è una fotografa probabilmente non è il suo vero nome che innamora e dice tu non riesci a vendere le tue fotografie giorni perché non piace a nessuno bravo vedo che c'è della gente di buona cultura leggetevi il testo degli altri Jay Tarro perché la traduzione è una poesia cioè io penso sia una delle canzoni la canzone a me non è che piace tantissimo però il testo è fantastico è veramente bellissimo la cosa più bella di Gerda e loro è che a un certo punto capiscono che hanno bisogno di un nickname e si inventano Robert Kappa che non era il suo nome perché lei entrava e diceva ma voi avete fotografie del famosissimo fotografo americano Robert Kappa e quindi aveva fatto nascere il mito in un'operazione di marketing bellissima prima che lui esistesse prima che lui fosse famoso e a un certo punto non l'ho mai visto me lo devo andare a vedere e a un certo punto lui e lei partono per la guerra di Spagna sapete che in Spagna c'è stata una guerra abbiamo combattuto anche noi italiani con le truppe legionarie ovviamente Robert parte dalla parte di sinistra degli oppositori di Franco e mentre combattere la guerra lui realizza una delle sue foto più famose il miliziano morente che è stato origine di una controversa incredibile perché lui è riuscito realmente è stato poi dimostrato ma tipo 4-5 anni fa i ragazzi di Instagram li butto giù e ripartiamo perché la diretta l'ha giunto l'ora un attimo aspettiamo che vi arrivino live beh allora intanto che aspetto che vi andate a riallineare no la ragazza con la leica io il libro non l'ho letto perché mi ha detto il nostro comune amico che non è che non è così bello però non credo che fosse lei forse sì forse sì devo leggere il libro non l'ho letto perché mi ha detto che era di un peso incredibile quindi non l'ho letto allora il parlavamo di loro due allora ovviamente partono per la guerra partono per la guerra e la vogliono raccontare dal loro punto di vista lui realizza questa sua foto incredibile che quella è il miliziano morente cioè lui prende credo avesse una rolexlex in quel momento lì tira fuori il braccio dalla trincella fa uno scatto e becca la pallottola mentre spacca la testa del miliziano che sta morendo tutto il mondo pensa che sia un fotomontaggio in realtà è stato poi dimostrato 4-5 anni fa che questa foto che gli diede visibilità incredibile era una foto vera l'aveva fatta davvero così aveva rubato il scatto perché? perché qualche anno fa è stata trovata una valigia la famosa valigia messicana che contiene conteneva tutti i negativi che non erano mai stati trovati di Robert ed erano stati abbandonati in una soffitta in Messico chissà che il viaggio aveva fatto stavarigia chissà da dove arrivava e a quel punto scavando in queste fotografie è stata trovata la serie di questi scatti beh lui è lì lo abbiamo lasciato e stanno fotografando questa guerra raccontano un punto di vista ovviamente in opposizione nazisti eccetera a un certo punto lui si allontana da lei e c'è un'operazione di ripiegamento perché le truppe sono incalzate voi sapete che poi ha vinto il regime franchista mentre cercano di ripiegare Gerda è su un da quanto ho letto sono varie versioni comunque quella che è più attendibile lei dovrebbe essere stata su seduta su un carro armato perché appunto si è seduta per essere portata in salvo purtroppo scivola magari per fare una fotografia immaginiamo così e finisce sotto i cingoli del carro armato e dopo un paio di giorni di agonia terribile la ragazza muore il cuore di Robert immaginiamo si sia spezzato e da quel momento le donne per lui non sono mai più state la stessa cosa sono state tutte fondamentalmente delle grandi avventure anche se ha incrociato donne fantastiche della sua epoca alcune delle attrici più importanti di chioli e è rimasto lì è rimasto appeso se volete portare un fiore sulla tomba leggera appena riapriranno il tutto è sepolta a pierre l'ascesa io sono andato e per me vedere quella tomba è stato un momento estremamente commovente anche se non è passato qualche anno bene abbiamo due luci una buona e una cattiva mi sono scordi una cosa allora gli obiettivi che sono stabilizzati sono obiettivi che è meglio in cui è meglio togliere lo stabilizzatore quando vanno sul cavalletto su tanti manuali istruzioni c'è scritto di non farlo che tanto se ne accorgono loro in realtà voi queste vibrazioni lui non le percepisce quando è sul cavalletto e molti nella mia esperienza in pratica purtroppo danno dei problemi questo è il mio consenso su quelli in macchina non ci sono problemi smorzano benissimo le vibrazioni nel cavalletto beh allora stavamo dicendo che ci sono delle ore migliori per fare i paesaggi ovviamente sono l'alba e il l'alba e il l'alba e il tramonto allora l'alba e il tramonto perché perché le luci non so allora voi immaginate quando fotografate un paesaggio che abbiate bisogno che più o meno tutto sia illuminato nello stesso modo se non hai un'illuminazione corretta se la luce non è giusta si determinano delle grosse ombre quindi quando il sole è a mezzogiorno tutto sembra un pochino impastato un pochino poco bello una situazione molto poco piacevole soprattutto tutto il cielo sembra lattiginoso nell'alba e nel tramonto la posizione in sole è più bassa e quindi il cielo prende quei bei colori che siamo abituati a vedere nel caso in cui ci fosse stabilizzatore sia che il nostro obiettivo togli quello sull'obiettivo ah qualcuno mi ha detto che non ho finito prima il discorso su Milano Milano mi sono trovato che avevo una coppia di sposi bellissimi davanti al tram ho preso un obiettivo lunghissimo un 70-200 loro erano in ombra non avevo visto perché ho troppo preso da questa foto ho scattato tipo un cinquantesimo di secondo col 200 quindi la foto sarebbe meno mossa in realtà avevo la fortuna di avere una mirrorless quindi uno stabilizzatore a 5 assi anche a un cinquantesimo di secondo le foto erano perfette tutte no perché lo stabilizzatore funziona su base statistica quindi se fate 10 foto 2 sono buone sicuramente quindi quando usate uno stabilizzatore e andate su tempi un pochino lunghi fate più scatti perché a seconda di come si muove può stabilizzare oppure no se fate una può essere mossa può essere giù perfetta torniamo a noi quindi se le ore sono l'alba e il tramonto il resto della giornata che facciamo? non fotografiamo? no possiamo fotografare con alcune altezze per esempio quella di allungare l'ottica e non cercare di mettere il cielo nell'inquadratura vedete nell'esempio sulla slide come si vede chiaramente il pezzettino di cielo fuori dal l'albo dal tramonto o in una giornata nuvolosa come diventa lattiginoso bianco eccetera poi voglia colorare con light con i filtri e compagnia d'anzante rimarrà sempre una chiavica chiaro quindi allungate e cercate di fare un'inquadratura come questa in modo che abbiate tutte superfici uniformi quindi più una foto di dettaglio ma senza il sole bene parliamo adesso di un tema difficilissimo la fotografia notturna no uno togli solo quello sullo stabilizzatore sull'obiettivo allora bisogna incominciare a parlare di un signore molto psuddolo che è quello in fotografia che si chiama Schwarzschild Schwarzschild aveva scoperto una cosa fondamentale che gli osimenti non rispecchiavano quello che erano i tempi di posa corretti per le pellicole in particolare lo faccio per gli appassionati di matematica la curva che determinava il rapporto fra fotografie fra tempo di esposizione corretto e tempo di esposizione che in realtà ci vuole per quella determinata pellicola si allungavano dopo quindi il massimetro Quash è preciso finché tu lavori con tempi fino a due secondi dopodiché il nostro esposimetro si muove in maniera lineare mentre la fotografia si muove e si muove in posizione e in modalità esponenziale quindi peggiora nettamente la situazione per fare un esempio pratico sulle pellicole poi è anche vero che ogni pellicola dava una correlata una schedina in cui si spiegava se quella determinata pellicola richiedesse un tempo esattamente doppio triplo eccetera parlava della caratteristica della singola pellicola comunque era una norma dopo per esempio 5 dopo i due secondi raddoppiare quanto? fino a 5 secondi potevi anche solo raddoppiare anche se il tempo corretto di esposizione erano 12 ma se prendevamo 20 secondi eravamo già 4 volte più avanti perché ne servivano in realtà 83 di 7 secondi questo effetto benché si dica che non esiste nelle macchine fotografiche digitali vi posso dire che empiricamente lo verificate cioè la misurazione del vostro esposimetro dopo i due secondi è veramente un pochino approssimativa quindi prendete almeno la buona abitudine anche sul digitale di raddoppiare quindi se vi da due secondi dategliene 4 se vi dice 15 dategliene più di 30 ok? vediamo che a chi è giordano uno che tradotto si chiama scuso nero e tratta la fisica della luce è il colmo scuso nero? scudo nero cavolo bello però la prima volta che so quello vuol dire si vede che ormai il tedesco te lo basti bene ora cominciamo a parlare dell'argomento più divertente di questa cosa cioè l'inquadratura come inquadrare in fotografia di paesaggio allora ci sono tre regole d'oro che ora vedremo con degli esempi pratici ok? mai mettere l'orizzonte al centro dell'immagine se fate il mare e il cielo la foto classica e tutti vorremmo fare oggi ma non si può lo so che il mio bene vediamo in giro a fotografare Milano deserta per me rimane una cosa che non si fa ok? non si fa quindi non mi partite con la scusa Colle ma detto andare a fare le foto di paesaggio nel fogliettino che il ministero pretende nell'autocertificazione ok? allora le foto sono le foto troppo post prodotte pirata al mio gusto l'abbiamo detto all'inizio e tu non eri ancora connesso perché ti ho visto connetterti risentiti la prima parte tanto su facebook la vedi tutta e troverai cose curiosi bene quindi ma è l'orizzonte al centro cerchiamo le linee d'ingresso cioè delle linee che veicolino l'occhio del nostro soggetto verso il punto di interesse e in ultima analisi cerchiamo siccome la foto è in due dimensioni in 2D cerchiamo di andare a creare dei punti che diano profondità cioè che ce la facciano sembrare in tre dimensioni vediamo come fare foto più classica del mondo cielo e mare se avete visto nei terzi c'è una barchettina quella barchetta serve a dare un senso a una foto che se no non ne avrebbe quindi ti dà l'idea di questa barchetta questa nave nell'infinito nell'orizzo bene questa foto vedete che non ha l'orizzonte centrale ma l'orizzonte è più in basso allora lo volete più in basso più in alto dipende dipende molto da quello che state facendo vedere in questo caso secondo me era corretta messa in basso perché la nave andava nei terzi è leggermente più bassa del terzo ma da quelle parti cerchiamo le linee di ingresso le linee di ingresso sono quelle linee che guidano l'occhio verso il centro dell'attenzione in questo caso per chiedere la zona è notorio che cosa sia ovvero il pontile del beach club Giordano non mi dire che non si è mai andato al beach sul si sincero nei tuoi trascorsi mondani da ballerino quale sei ora negherà anche l'evidenza allora il le linee di ingresso qui è un occhio nel punto che voi volete cioè questa forza sarebbe un bellissimo tramonto ma senza queste linee avrebbe meno forza sarebbe meno veicolato l'occhio nel punto di interesse quindi è importante che guida il vostro interlocutore a vedere quello che fate dove volete prendergli la testa e portare l'attenzione ok elementi per aumentare la prospettiva in questa foto per esempio vedete che c'è il mare la scogliera però l'ho fotografata non io guardando verso l'orizzonte ma l'ho fotografata di sbieco cioè guardando verso la costa in questo modo il taglio dell'inquadratura mi ha permesso di avere delle rocce fra me e l'ultimo dei soggetti cioè lo sfondo in questo modo questa fotografia è risultata essere molto più vicina a un'immagine reale perché vedevo come questa cosa proseguiva quindi mettere degli elementi in primo piano secondo piano eccetera ha guidato l'occhio del mio soggetto in una determinata direzione allora vuoi degli esempi di linea d'ingresso vediamo se trovo qualcosa nella mia doveria di foto andiamo in questo caso il centro di attenzione della fotografia è il vi sto facendo vedere il mio archivio personale di foto in questo caso il centro di attenzione della chiesa come in realtà l'isola di san giorgio a venezia le gondole sono la linea di ingresso che porta l'occhio in direzione oppure in questo caso il movimento che c'è di venezia su facebook il movimento che c'è su venezia di tutto il canale e la barca che va in quella direzione portano l'occhio in una determinata direzione in questo caso è palese quali siano le linee di ingresso e dove voglio portare il centro dell'attenzione del mio soggetto guardate aspetto io ragazzi quando mi scrivete da instagram ho veramente vergogna a dire i nomi questo si chiama ma maggiorito amo ma di nuovo o di condono allora comunque queste le linee ingresse sono sono chiare quali sia in questa foto di londra vediamo un'altra foto che ha delle forti linee di ingresso in questo caso addirittura circolari se scrive mi ha dei commenti alle foto chi ti fa cagare poi vediamo in questo caso per esempio la monument valley ho usato le due rocce per creare sia un elemento in prospettiva avanti e dietro sia il ingresso la foto che vi dicevo prima in cui si vedevano le in cui avevo avuto il problema di stabilizzare il cavalletto perché c'era molto vento è questa di New York è questo skyline qua di New York che era veramente una giornata ventosissima si può vedere come nuvole non so se l'avete vista in questo caso non me ne fregava dell'ingresso perché il concept era talmente forte che passava avanti a tutto una linea di ingresso può essere anche determinata come in questo caso al contrario cioè il ponte passa da essere il soggetto che uno magari si pensava di avere davanti a un oggetto che vi guida l'attenzione verso la cosa che ti voglio far notare per prima cioè il binocolo in questo caso quindi è un'azione inversa il binocolo diventa il soggetto della foto e la chiave di ingresso nel mondo della fotografia che ti voglio far vedere e soprattutto ti voglio far immaginare che è quella dietro questa foto ha avuto un successo commerciale anche in questo caso è chiare quali sono le linee di ingresso canoè allora poi vi dico che il soggetto non va mai messo al centro è bellissimo creare un effetto come questo anche perché se lo devo vendere con la pubblicità qui ci possono scrivere rotoloni regina cento piani di morbidezza oppure una delle foto dove meglio mi esprimo sulle linee di ingresso credo che sia questa se loro in pochi è normalmente considerate privilegiate è difficile che io faccia vedere qualche faccia vedere poco più di altro per mantenere attenzione sulla mia fotografia di matrimoni allora i filtri certo di regola va ponderata a seconda per presa e le assiste la sensazione che vuole dare un blog non lo so in una zona per fare foto di Londra che era in mezzo alla strada con le macchine che passavano si era in mezzo alla strada con le macchine che passavano l'anno dopo ci ho messo una coppia di sposi se andate a cercare Londra sul sito con le foto trovate un servizio di matrimonio fatto a Londra e ce ne trovate diversi nell'ultimo pubblicato ci sono una coppia di sposi che sono in mezzo alle strisce luminose e mi hanno odiato per ore vabbè è a generale che la polizia non ve la dico molto filtro n di ora ne parliamo ancora in Londra rischiato parecchio ho capito ma non è un'ombra semplice ok è semplice non c'è nulla nella vita le cose belle sono fatte bellissima foto grazie ma è risraiato sulla strada esatto sì allora esistono anche dei video delle cose che faccio che girano alcune cose a mente fredda facevo meglio non farlo allora tutte le foto che vi faccio vedere sono state fatte con cavalletto sì la maggior parte forse quella del Guggenheim visto dal basso no l'effetto mosso l'effetto delle macchine che sfrecciano è semplicemente un mosso allora per la foto di cifra no Marco mi chiede spesso metto i soggetti su un punto forte è corretto e dipende dipende da cosa vuoi comunicare dipende qual è il soggetto dipende come è la foto ok dai che affrontiamo che poi stasera vi lascio vi lascio spazio domande e poi vi lascio poco allora per il paesaggio sono fondamentali due filtri dice la teoria il filtro polarizzatore e il filtro MD allora partiamo al presupposto che potete fare fotografia anche senza avere questi due filtri Miracolo allora che cos'è il filtro il filtro è un filtro estremamente interessante perché è esattamente come se io andassi a mettere gli occhiali da sole la mia macchina fotografica quindi mi rallentano tutti i tempi a parità di iso e a parità di diaframma quindi è semplicemente come fosse diventato improvvisamente intorno a me più buio questo permette di fare quegli effetti setosi dell'acqua quindi quando l'acqua diventa un po' fumo eccetera eccetera vi do una bella notizia se comprate un filtro MD funziona anche se lo mettete davanti al cellulare lo leggete così lo prendete lo mettete davanti ma chi è in cellulare funziona anche lì e allora ci sono dei cellulari Serafino ti ringrazio ma non mi ci sento allora i filtri ND sono molto bellini alcuni costano veramente molto poco personalmente pur non ne sento sponsorizzato mi piace dirvi che c'è una ditta che si chiama Gobe che fa Gobe G-O-B-E credo che sia brasilera questa ditta praticamente ha una policy molto attenta all'ambiente cioè ogni volta che voi comprate dei filtri pianta degli alberi poi se lo fanno davvero non lo so però mi hanno detto che con i filtri che ho comprato ci hanno piantato una decina di alberi secondo me è una cosa molto bella per cui li ho comprati volentieri di qualità sono buoni nel rapporto tra quello che lo pagate e quello che va io di filtro ND ne uso tantissimi quindi ne ho una bella collezione ce l'ho per i droni ce l'ho per le macchine fotografiche il problema è che spesso il filtro ND si divide in due categorie si divide nella categoria dei filtri circolari e nei filtri all'astra qual è la differenza? il circolare no il circolare si avvita sull'obiettivo ok quindi quando tu di nulla Brown quindi quando tu cambi l'obiettivo devi avere nel filtro circolare un altro filtro un altro obiettivo della stessa dimensione oppure devi andare a comprare un altro filtro oppure ne compri uno grande e ci metti tipo per l'obiettivo più grande che hai poi per gli obiettivi più piccoli compri gli anelli adattatori che costano pochi euro questa è una strada un'altra strada è quella di utilizzare i filtri all'astra cioè nei filtri all'astra si mette uno che si chiama portafiltro avevo anche il nome inglese ma ora non mi viene e poi si inserisce questo ha uno slot e si carica una serie di filtri oppure un filtro solo bene qual è il problema? che anche in questo caso il portafiltri rimane unico ma l'anello che ti permette di adattarlo sull'obiettivo cambia la seconda della taglia e quindi ne devi comprare N quindi spegni un pochino e puoi utilizzare anche i tuoi filtri su più obiettivi nella mia personale esperienza siccome poi mi scordo la roba che sono abbastanza come dire sempre con la testa fra le nuvole e gli nd li uso principalmente nella foto materiale preferisco avere delle borse dedicate per ogni tipo di attività che faccio dove prendo e ci metto solo la macchina fotografica e gli obiettivi ma il mio kit di filtri è sempre quello quindi per la assemblade ho la borsa assemblade con tutti i suoi accessori e tutti i suoi filtri per la sony ho la borsa con tutti i suoi filtri e tutti i suoi accessori a seconda degli obiettivi e così va è anche vero che come vi dicevo il filtro nd può essere sostituito in che modo? esistono delle robe complicatissime che si fanno a livello software addirittura esistono delle piccole intelligenze artificiali che qualcuno mi chiedeva che si innestano sulla macchina e fanno una serie quasi infinita di scatti older il Nisi è il top no secondo me il Nisi non è il top il Nisi ha un ottimo marketing secondo me il top dei filtri è la LLE infatti vai a vedere quanto costano e ti prende male allora io tra l'altro quando mi occupavo seriamente di paesaggio e c'è ancora un kit su Nikon avevo tutti i filtri lì purtroppo gli obiettivi grandangolari sono un pochino più larghi e non riesco a sfruttarli bene e quindi c'ero lì e li uso su alcune macchine su alcune ottiche in altri casi no però è anche vero che oggi ho fatto molto meno pergi di quanto ne scattavo quattro anni fa che ero fisso a scattare paesaggi bene detto questo il filtro ND qualcuno lo utilizza anche in una maniera che secondo me è un po' old style però con il filtro degradante cioè uno che è scurisce la parte di sopra di so seconda di come lo oriento e mi lascia la parte sotto questa cosa serviva serviva perché qualche anno fa le macchine fotografiche non avevano una particolare gamma cromatica e purtroppo questo è il grande neo che ancora oggi la sua gamma cromatica è ristretta quindi se facevate una foto dove c'era una parte particolarmente luminosa come un cielo e una montagna che invece è più scura vi veniva probabilmente il cielo bianco e non lo recuperavate neanche in post produzione questa è una gamma cromatica ristretta in soldoni sì anche i tiffen sono molto buoni come si poteva ovviare a questo? si poteva ovviare in un modo molto semplice ovvero ovvero mettere un filtro che scuriva un pezzettino e quindi lo riportava praticamente in gamma cromatica oggi le macchine attuali Canon, Nikon, Sony eccetera scusate Nikon, Sony eccetera hanno una buona gamma cromatica per cui si può lavorare con un unico scatto e si ottengono già dei buoni risultati chi avesse bisogno di andare in HDR cioè di fare un ulteriore allargamento quindi una sfumatura dove si veda meglio nelle ombre e nelle luci oppure volesse proprio in due situazioni estremamente diverse da affondere può utilizzare una tecnica molto semplice tiene fermi gli ISO tiene fermi i diaframmi perché sennò cambia la profondità di campo e varia il tempo si fa 4-5 scatti con una progressione di tempi trentesimo sessantesimo centoventicinquesimo duicentocinquantesimo per esempio e poi da impasto queste foto a una funzione estremamente facile che c'è su Lightroom e che vedremo nella prossima puntata di questo corso e otterrà una foto mescolata perfettamente come se avesse utilizzato un costosissimo filtro ND degradante per cui banalmente non serve avere l'ND degradante serve invece è utile avere un ND integrale che non è un ND tutto nudo ma è un ND che praticamente mi scurisce tutta la fotografia dalla testa ai piedi e quello è molto utile perché mi permette di avere per esempio quegli effetti delle nuvole che camminano dell'acqua che diventa setosa e quello in borsa fa sempre parecchio 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 comodo se poi vi viene la sciagurata idea come al sottoscritto di passare a foto a pellicola scoprirete un'altra cosa estremamente utile degli ND cioè che gli otturatori delle macchine degli anni non sono così performanti come gli otturatori di oggi ovvero in una bellissima giornata di sole non potevi scattare a f2.8 perché il tuo obiettivo arrivava il tuo otturatore arrivava a un 0,5 di secondo e quindi non ce la facevi ci dovevi mettere una pellicola 25 asa che all'epoca c'era oggi non ci sono più quindi sei costretto a metterci sopra dei filtri che ti permettono di vedere più buio e quindi di utilizzare il tuo 5 centesimo di secondo anche con un 2,8 sì anche il fuoco è sul stesso punto Martina lo scopo del filtro è quello dell'ND è quello di scurire la nostra immagine gli ND esistono di varie gradazioni cioè puoi scurire di più o di meno normalmente io ne ho tre quindi non vi bastano di solo ma vedrete che anche nel kit ve li vendono in più l'unica cosa antipatica dei kit è scoprire che se prendete quelli circolari che secondo me sono i più pratici gli obiettivi potrebbero avere dimensioni diverse sulla lente davanti quindi dovete comprare più di uno oppure comprate quello più grande comprate l'anello adattatore che costa 2 euro e lo mettete su tutti i vostri obiettivi gli OIA non sono male gli OIA sono una ditta che produce principalmente vetro quindi magari altri filtri di altre marche sono fatti con quello bene passiamo al filtro polarizzatore nel mondo digitale il filtro polarizzatore ha una vita estremamente meno soddisfacente di quella che aveva ai tempi della pellicola infatti se ci parlate è un po' depresso perché? perché il filtro polarizzatore fa fondamentalmente due lavori uno toglie i riflessi quell'altro lavoro che fa aumenta la saturazione toglie un pochino di luminosità ma fondamentalmente riduce i riflessi e aumenta la saturazione qual è la simpatica conseguenza di questo fatto? che se mi va a ridurre i riflessi io riesco a vedere ad esempio dentro un vetro se io prendo e metto un polarizzatore fotografo un'automobile che ha un riflesso sopra perché sta passando sotto un pino il pino riflesso nel vetro non lo vedo ma ero al suo interno mi va a prendere il riflesso questo è estremamente utile per cui il polarizzatore fondamentale per esempio fotografare perché vi toglie i riflessi che ci sono perpendicolari a quella determinata il resto di quello che ottiene cioè aumentare la saturazione togliere un'automobile francamente lo fate anche in post-produzione la prossima lezione è proprio su questo vedrete che faremo delle cose interessantissime paesaggi difficili allora se voi andate a comprare un qualunque manuale di fotografia vedono che ci sono due paesaggi particolarmente si può dire stronzi diciamo stronzi e sono la spiaggia assolata ma non ci potete andare quindi che cacchio e la deve quanta luminosità toglie il polarizzatore veramente toglie uno stoppino via frammina il problema quando andate in questo ambito è che lo sfondo quindi la sabbia piuttosto che il mare piuttosto che la neve riflettono tantissima luce allora sui manuali c'è scritto dovete restaurare più non stoppino se stessi volate qua io vi do un consiglio molto pratico fate come avete sempre fatto misurate sulla pelle e risolvete in quel problema il servizio sul lago di Brasi è stato fatto con questo esposimetro puntato sulla pelle del soggetto l'esposizione è uscita sempre perfetta con una macchina a pellicola quindi non ho corretto quel digitale era a pellicola la lezione era svizzera precisissima quindi non ve fate fregà misurate sulla pelle si può fare anche di notte? sì perché di notte non si dovrebbe fare? allora la lezione sarebbe finita qua io aspetto le vostre domande vediamo Martina cosa scrive non si potrebbe tenere questo effetto accorciando i tempi senza usare ND allora non è che scurisci l'immagine con l'ND scurisci la scena quindi il tempo scende di conseguenza per rimanere ben bilanciata l'immagine cioè per rimanere con lo stesso con lo stesso grado di chiarezza ovviamente scendendo il tempo tu hai dei vantaggi per esempio se scende un tempo di 4 secondi l'acqua che tu vedi è mossa bellissimo quel servizio non so quale ma ti mi grazie allora ragazzi di Instagram avete domande? Instagrammerz avete domande? intanto fissiamo la prossima lezione la metterei martedì il tema sarà la post produzione allora martedì 24 ore sezione corso base post produzione ore 17 se non vi viaggio tutto il coronavirus speriamo di no domanda da un milione di dollari la prossima volta la diretta Instagram la faremo però vi conviene connettervi su Facebook perché vi farò vedere il monitor non ci sono le slide quindi non me le chiedete perché non ci sono slide di queste e poi le potete scaricare e quindi non potete scaricare ma dovete vedere come io lavoro con il computer l'appuntamento ancora successivo lo abbiamo aggiunto ora sarà la lezione di macro fotografo ok farai anche l'avanzato sì sto cercando le slide che avevo del corso avanzato non le vedo più quindi non ci vuole il tempo di scrivere vi chiedo però cortesemente di mandarmi e ora farò un appello a questo su Instagram se per piacere mi potete mandare degli argomenti di cui volete sentire parlare di fotografia così ve li tratto meglio volendo in un futuro per un principiante che macchina consigli o le Sony o le Fuji utilizzo la mia X100 della Fuji quale marca e ne dimmi consigli o Gob lì ci vuole l'adattatore sull'X100 se non mi ricordo male per avvisarcelo cioè devi togliere il pezzettino dell'obiettivo e metterci un affare che c'è la filettatura guarda un attimo e lo dovresti trovare Felica se dovesse acquistare una macchina fotografica cosa mi consigli o una Sony o Fuji di quelle a ottica intercambiabile mirrorless il polarizzatore aiuta anche nelle foto di tratto matrimonio ore 12 aiutami no matrimonio ore 12 è una cazzata mettere dal soggetto dove ci sono dei rislessi lo metti in ombra ok domande di qua nessuna ragazzi visto il prezzo che abbiamo fatto qui ne vedo che si sconnettono termine il video condivido nella storia ok bene allora senza esposimetro come posso dosare la luce solo coordinando i strama c'è tutta la lezione numero 2 che vi ho lasciato online dove spero che possiate andare a leggere e approfondire questa domanda un argomento si scrivimelo dopo perché faremo il post espongo per il cielo spesso va bene oppure cieli se viene in regola il 16 esponi sulla pelle non esporre per il cielo esponi per la oh mimo l'unico caso in cui tu devi esporre sul cielo è che tu abbia una canon però poi lì te lo spiego meglio cioè se hai una canon esponi sul cielo per salvare le alte luce e poi recuperi dopo in post edizione grazie grazie mille bene saluto a tutti